Come attirare nuovi talenti in agenzia, questo è il titolo della sessione formativa, come ha preannunciato appunto da Paolo Leccese, a cura di Maurizio Crepaldi, OSM Management. Eccomi qua! Ah però, qua, che sprint! Buonasera, piacere! Salve! Buonasera a tutti! Qua abbiamo preso a calci i microfono. Io non ho bisogno di sedermi. Grazie, è un piacere essere qua. Ma, innanzitutto vediamo qua se è possibile alla regia mandare le slide. Buonasera, io mi chiamo Maurizio Crepaldi, sono un papà, un marito, sono il direttore marketing di OSM Real Estate e gestisco diverse attività in diversi settori. Prevalentemente mi occupo di comunicazione, marketing, software, quindi un po' il mondo possiamo dire digital. Sono un appassionato di comunicazione generazionale. Mi piace come dialogano le persone di tutta l'età e cerco di capire come funziona la comunicazione nel mondo. Sono un'autodidatta e quindi cercherò di spiegare cose molto complesse in maniera molto semplice. Innanzitutto voglio partire con una domanda. Chi di voi in agenzia cerca almeno un collaboratore? Benissimo. Chi ne cerca almeno due? Accidenti. Chi ne cerca almeno tre? Ecco così, ad occhio, non vado avanti. Come avete notato dalla Centomo Bergamo Alta, avete notato? Non vado avanti più di così perché ad occhio e croce, anche se avevo la luce un po' in faccia, 150-170 persone pronte da inserire nelle nostre agenzie. Dove sono? Perché non le troviamo? Ora, in questi 30 minuti cercherò, dato il tempo ristretto di stare anche un pochettino più breve, cercherò di fare un breve assunto diviso in due parti, statistica, quindi dei dati, e comunicazione e dare un po' il mio punto di vista su quali possono essere alcune attività che puoi mettere in campo per trovare nuovi collaboratori. Ora, dieci anni fa ho conosciuto Open Source Management, io gestivo attività in altri settori e un poco, diciamo, da cliente conosco questa realtà molto importante nella formazione italiana e uno dei fondatori, Paolo Ruggeri, all'apertura di un corso di formazione, dice questa frase Il capitale umano genera il capitale economico. Io sono rimasto folgorato perché ho pensato che stavo sbagliando tutti i miei investimenti negli uffici, nel marketing, nel trovare nuovi clienti e ho pensato subito la cosa più importante che devo fare è attrarre i migliori talenti, i migliori campioni per la mia organizzazione perché se attrago o miglioro il capitale umano della mia attività significherà che anche la mia attività andrà meglio, migliorerà anche il capitale economico. Siete d'accordo con questa frase? Bene. Ora, 20 anni fa, 4 milioni di imprese davano lavoro a circa 17 milioni di potenziali collaboratori residenti in Italia, compresi gli extracomunitari. A distanza di 20 anni, 4 milioni e mezzo di imprese, quindi mezzo milione di imprese in più, danno lavoro o vorrebbero dare lavoro solamente a 13 milioni di potenziali persone occupabili. Abbiamo un problema, signori. Mancano 3.8 milioni di persone occupabili in Italia. Non ci sono. Non sono nate. E quindi questo è il primo grande dama. Quando tu dici io non trovo i collaboratori, è vero. Perché non ci sono. In più ci sono grossi gruppi o grosse aziende o dei brand molto forti che fagocitano tutto il capitale umano. Ora, per riuscire a risolvere, e questo è un problema perché ad esempio negli Stati Uniti American Airlines cancella il 4% dei voli quest'anno perché non ha chi scaricano i bagagli. Chi scarica i bagagli? È McDonald's da 50 dollari se ti presenti al colloquio. Eh sì, è. Oppure in Europa ci sono già, avete sentito parlare di sign on bond. Vieni a lavorare per me, intanto ti do 20 mila, 25 mila dollari e poi inizi a lavorare. Quindi c'è una carenza di personale. La mia soluzione è che se tu vuoi espandere la tua agenzia, la prima cosa non devi perdere le persone che hai. Non mi sto riferendo agli scansafatiche, alle persone che proprio non vanno bene con te, con il tuo carattere, con la tua agenzia. Mi sto riferendo alle persone normali, ai collaboratori medi, le persone che collaborano con te. Non li devi perdere. Come si fa a non perdere collaboratori? Fai piani di incentivo, fai piani di carriera, rendi il lavoro bello, rendi il lavoro piacevole. Una cosa che sembrerà banale, trattali bene. Io spesso che faccio tanta consulenza e vedo qualcuno che annuisce con la testa, entro in alcune agenzie e vedo dei titolari di agenzia che i collaboratori non è che li trattano proprio così bene. Dato che c'è una grande possibilità di mercato, il collaboratore potrebbe decidere di andare via dalla tua agenzia ed andare da un'altra parte. Quindi, innanzitutto, non perdere quelli che hai. Trattali bene, cerca di rendere il lavoro molto piacevole. Secondo punto, mentre non perdi le persone che hai, trasforma la tua agenzia o te stesso, o la comunicazione della tua agenzia, in una calamita. devi fare in modo di attrarre le migliori risorse umane presenti sul mercato, che generalmente più sono brave, più rimangono sul mercato poco tempo. Siete d'accordo con me? Cioè, se un collaboratore, una persona è molto brava, quant'è che rimane sul mercato? Sette, otto minuti? Dopodiché trova un'occupazione. Quindi è importante essere presenti sempre come comunicazione nel mercato nella ricerca e selezione del personale. Cosa significa? Che l'azienda è sempre in selezione. L'agenzia è sempre in selezione. Non va in selezione quando sono in urgenza. Perché la maggior parte delle volte, quando sei in urgenza, ti fai andare bene quello che ti arriva. È capitato solo a me? E la maggior parte delle volte ti prendi una gran sola. Invece devi essere sempre in selezione e fare in modo di intercettare le migliori risorse umane. Ora, cosa sto dicendo? Semplicemente che l'attività di recruiting si sta sempre più avvicinando, e già Indeed lo diceva cinque anni fa, in un'attività di marketing. Cioè gli sforzi di marketing che devi fare come agenzia devono comunque convertire anche nell'attività di reclutamento. Poi come titolare devi essere in grado di reclutare costantemente le persone. Quindi la prima attività la devi fare tu. Il mio amico Winston Sinibaldi, che ha dieci agenzie sul lago di Garda, è molto bravo, a fare proprio questo. Non pensa non posso avere le persone, è difficile trovare le persone. Quando incontra una persona che gli piace, che è entusiasta, fa di tutto per reclutarla. Dopo la forma e cerca di inserirla in una delle sue agenzie e avviarla. Quindi, uno, come titolare devi essere te sempre in selezione. Due, un poco di consigli te li posso anche dare su quelle che sono, secondo me, attraverso le cose che ho provato, le attività o gli strumenti migliori che ti portano persone. Allora, innanzitutto, in Italia vivono diverse generazioni. Generazione alfa, i ragazzi molto piccoli, mio figlio che ha dieci anni, una generazione alfa, non è occupabile, si chiama sfruttamento del lavoro minorile. Purtroppo sì. La generazione Z, dai 10 ai 25 anni, molti ragazzi tra i 20 ai 25 anni sono davvero in gamba. I millennials, dai 26 ai 41 anni, la maggior parte delle persone occupabili si trova in questa fascia qua. La generazione X, dai 42 ai 57 anni. anche qui abbiamo delle persone occupabili che stanno cambiando attività, cambiando azienda. Ora, le persone, diciamo, migliori da reclutare sono la generazione Z, a parer mio, e anche la generazione millennials. Cos'è che differenzia queste generazioni, signori? Che hanno ricevuto, in età adolescenziale, degli stimoli da strumenti che gli hanno fatto codificare un linguaggio. Come mio figlio di 10 anni adesso gioca a Fortnite, che è un videogioco, e codifica un linguaggio, perché questo strumento gli dà degli stimoli, e codifica un linguaggio che significa craftare, buildare, usa dei termini che sono quasi incomprensibili, alcuni di noi hanno usato la cabina telefonica. È vero, le pagine gialle. Alcuni di noi hanno usato i 160 caratteri, col Nokia 3310, e quindi scrivevano NN per scrivere non, oppure scrivevano perché XKE. Ora, se tu scrivi a una generazione Z XKE, pensa che sei un boomer e ti fumi tutta la leadership in un secondo. È la verità. Quindi, persone diverse, linguaggi diversi. C'è uno studio molto interessante, fatto da Ransdard, di pochissime settimane fa, che ha intervistato i potenziali dipendenti delle persone potenzialmente occupabili nei prossimi anni. Innanzitutto, come primo dato, è emerso un'atmosfera di lavoro piacevole. Se hai un'agenzia brutta dove dentro tutti sono arrabbiati, probabilmente farai molta fatica a trovare nuovi collaboratori. Seconda cosa, e questo ti serve anche a livello di comunicazione, perché tu dovresti comunicare il tuo ambiente di lavoro all'esterno. Secondo punto, buon equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. Terzo punto, retribuzione ai benefit. Ora, vi faccio vedere un poco quali sono le differenziazioni. la prima, la generazione Z vuole una bella atmosfera di lavoro. Quindi, ragazzi giovani, la prima cosa che fanno è, poi vedremo nella seconda parte dell'intervento alla comunicazione, mettere il naso nei tuoi social network, nel tuo sito internet, prima di candidarsi, e cercano di capire se l'atmosfera di lavoro è buona, se ti diverti oppure no. Pensate che passano da una fino a cinque ore, nel 35-40% dei casi, a controllare i social network, anche dei collaboratori del titolare, prima di candidarsi. Quindi, se tu metti i post sul Covid-19, sulla guerra e sull'aumento dell'energia, molto probabilmente sei poco attrattivo per queste persone. Perché vogliono vedere, invece, un titolare di agenzia o una rete vendita che si diverte. Poi vogliono un percorso di carriera ben visibile da subito. Ma a meno che andiamo avanti con l'età, quindi, la generazione millennials e la generazione X, capite bene che queste sono persone che iniziano ad avere già dei figli. E quindi hanno necessità di stare più vicino a casa. Hanno necessità di avere ben stabilito, dato che magari hanno anche degli impegni economici nei confronti dei figli che vanno a scuola, dei mutui da pagare, della seconda casa al mare. Hanno necessità di avere un chiaro e reale punto sulla loro retribuzione e i benefit. E io ancora, molte volte, a fianco dei colleghi in agenzia a fare dei colloqui di selezione che fanno degli appuntamenti con un ragazzo di 35-36 anni e durante il colloquio gli dice, lui gli chiede, ma scusa, ma per i compensi? E quello gli dice, sì, vabbè, tu inizia, poi vediamo. Questa roba qua è proprio italiana, eh? Sì, vabbè, tu inizia, poi vediamo con i compensi. No, è importante oggi come oggi subito dare la realtà di quanto sono i compensi che il potenziale collaboratore e troverà. Attenzione, signori, la mia non vuole essere una conferenza troppo dura, però la verità è che noi abbiamo spesso nella selezione del personale abbiamo delle idee veramente virus. I ragazzi non c'hanno voglia di lavorare. Non è vero. Non è vero che i ragazzi non c'hanno voglia di lavorare. oppure prima mi dimostra e poi lo pago. Accidenti, è una cosa che non è che sia un'idea proprio corretta, corretta. Ora, io vi do degli spunti, quindi innanzitutto per attrarre talenti la prima cosa che devi fare è non avere tu idee pessime in testa sulle persone e avere anche una sensazione di poter sviluppare il potenziale umano in altri individui. Se vuoi rimanere da solo e non ti piacciono le persone, questo intervento non fa per te. Ok, andiamo avanti. Allora, adesso io, siccome ho ai minuti un po' contatti e voglio andare di fretta anche perché ci sarà un prossimo speaker, arrivo subito al suodo. Quindi, la prima parte è statistiche, ci sono meno persone. brutta notizia. Adesso arrivano le belle notizie. Io un poco, quando giro, mi piace la comunicazione e guardo i siti web o alcune piattaforme di recruiting, trovo questo genere di annunci da parte delle agenzie immobiliari dove c'è scritto quei pochi mossi dalla determinazione, quei pochi che cercano una strada, spero che non sia di qualcuno di voi quest'annuncio, quei pochi che sanno incassare tanti no, quei pochi che amiano il dinamismo, non tornare mai a casa, non vedere i figli, quelli che giorno dopo giorno prendono schiaffi dai clienti e rimangono in piedi, quelli che hanno veramente voglia, ma che lavoro di merda è? ma signori, ecco, io non voglio generalizzare perché generalizzare è una cosa brutta, però se andiamo a vedere veramente alcuni annunci di reclutamento, 75% delle volte troviamo questo genere di annunci, vieni a fare una vita di fatica brutta e poi ti paghiamo pure poco ragazzi e poi vi lamentate che non trovate le persone accidenti e fatevi una domanda ora le persone ci sono e io sono convinto che l'agente immobiliare invece è un lavoro bello perché l'ho visto ho tanti amici che lavorano nel settore è un lavoro che ti permette di fare tante relazioni è un lavoro divertente va comunicato bisogna comunicare questo, la parte bella non la parte brutta i talenti vanno i campioni vanno dove ci sono bei progetti dove ci sono progetti entusiasmanti dove ci sono progetti innovativi pensate a tanti brand adesso che comunicano tante innovazioni tanti ragazzi giovani vorrebbero andare a lavorare nelle aziende belle innovative quindi questo è molto importante che noi comunichiamo se vogliamo attrarre i migliori talenti comunichiamo il bello del lavoro queste sono le mie strategie cose molto semplici applicabili a ogni livello che tu hai un'agenzia con tre persone o che hai un'agenzia molto strutturata con tante persone primo punto devi avere un sito se sei molto strutturato oppure una bella pagina carriere se sei un po' più piccolino una pagina lavora con noi fatta bene nel sito web la pagina carriere quindi la pagina jobs se sei strutturato devi avere un sito jobs dove c'è dentro tutto i piani di carriera i video delle persone se sei piccolino non puoi avere una pagina carriera che abbia solamente gli annunci delle posizioni ma devi mettere le foto devi far vedere il team con cui lavorerà devi mettere non solo annunci devi mettere una gallery devi far vedere com'è l'azienda devi far vedere com'è l'agenzia devi mettere insomma contenuti variegati un'altra cosa devi mettere la possibilità nel sito carriere o nella pagina lavora con noi la possibilità di avere un contatto veloce nome cognome numero di telefono mail e quel contatto la ecco qua un esempio andate a vedervi il sito SM real estate ci sono i video dei ragazzi che parlano c'è il piano di carriera tutto in una paginetta il contatto cioè il CV la persona che si candida va trattata come un lead sapete tutti cos'è un lead chi non sa cos'è un lead ok bene questo è molto importante che se fate così un lead adesso sapete che ogni candidatura va trattata idealmente come se fosse la migliore acquisizione della vostra vita perché Maurizio perché questa persona se non viene risposta in qualche modo non si candiderà mai più con voi e poi generalmente questa persona ha una famiglia ha dei parenti ha degli amici che hanno una casa o che comunque potrebbe nel futuro lavorare nel settore immobiliare quindi il fatto che tu non rispondi a un potenziale candidato ti mette in cattiva luce nei confronti di una persona che ha fatto una manifestazione di interesse nei confronti della tua agenzia è un lavoro impegnativo sì dipende da quanti CV ricevi da quante candidature o contatti ricevi generalmente quando ne arrivi dovresti prenderti del tempo schedulato in agenda per ricontattarli anche brevemente grazie ho visto che ti sei candidato verificherò il tuo CV prosegueremo ognuno poi ha il suo processo di selezione proseguiremo nel nostro processo di selezione grazie per esserti candidato seconda cosa social network la maggior parte delle persone immagino che le persone presenti in questa stanza chi su LinkedIn chi su Facebook chi su Instagram e forse qualcuno anche su TikTok eccolo là hai visto che c'è siamo sui social network è l'epoca dei social network quindi essere presenti sui social network è fondamentale come devi essere presente sui social network con i video lo strumento migliore in assoluto per essere presente sui social network è i video idealmente anche qua devi sui social network far vedere persone i tuoi collaboratori te devi parlare dei tuoi valori della tua mission di che cosa ti motiva di che cosa ti accende non puoi parlare solamente di immobili o per Diana non voglio generalizzare di nuovo ma la pagina social dell'agenzia la maggior parte delle volte c'è l'immagine della sala con scritto venduto qualcuno ride perché sa che è così no? è venduto in sette giorni Dio e la maggior parte delle volte trovi questo tipo di comunicazione i social network nascono per le interazioni non nascono principalmente per il business quindi devi far vedere gli esseri umani le persone in un mondo come dicevano prima anche parlando di digitalizzazione in un mondo che diventa sempre più digitale dobbiamo tornare a essere esseri umani quindi utilizziamo gli strumenti digitali per far vedere la nostra umanità ora volevo far vedere un piccolo video regia che sono alcuni dei nostri collaboratori più giovani che sono stati ripresi intervistati e parlano dell'attività di consulenza con la OSM Real Estate regia c'è? via OSM Real Estate è la più grande occasione della tua vita OSM Real Estate per me è stata una delle più grandi opportunità della mia vita per me OSM Real Estate è una casa una famiglia dove più che lavorare rincorro i miei sogni OSM Real Estate è un'azienda che si occupa di gestire gli agenti mobiliari quindi di far crescere il settore immobiliare perché crediamo che sia un settore veramente meraviglioso per il nostro mercato è l'occasione che tutt'oggi mi permette di ottenere grandi obiettivi personali e professionali perché all'interno di OSM Real Estate puoi realizzare i tuoi sogni per diventare la miglior versione di te stesso che puoi trovare la nostra grande missione è quella di aiutare le agenzie immobiliari a crescere e a svilupparsi e a poter diventare delle aziende che collaborano tra di loro rendere il settore immobiliare uno dei pilastri dell'economia italiana quando sono entrato in OSM Real Estate ho trovato persone che si fidavano di me ho trovato una famiglia ho trovato dei campioni ho trovato la strada per diventare io stesso un campione puoi trovare tutta l'energia di cui hai bisogno per raggiungere ciò che desideri devi assolutamente unirti a noi perché qui puoi trovare la possibilità di crescere come non hai mai pensato fosse possibile qui è un po' il paese dei balocchi trovi quello che ti permette di esprimere veramente il tuo potenziale un gruppo di persone che ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi e che cospirerà insieme a te nel raggiungimento dei tuoi sogni e lavorare con noi è una grande opportunità perché puoi crescere fino a quando tu lo desideri sono Rami sono Lorenzo sono Martina sono la CEO di OSM Real Estate venite a lavorare con noi perché la tua carriera è qui che ti aspetta puoi trovare veramente la possibilità di diventare il numero uno non lavorerete nemmeno un giorno della vostra vita dobbiamo cambiare il mondo andiamo bene e questo è un esempio un esempio di video che tu puoi promuovere vi è piaciuto? facciamo un applauso OSM Real Estate benissimo un esempio di comunicazione che puoi mandare fuori dove parlano dei ragazzi noi siamo molto fortunati perché nella nostra scuola ci sono dei ragazzi che chiedendogli che cosa vi piace del vostro lavoro ci hanno detto che abbiamo un bel piano di carriera che l'ambiente è bello guarda caso le cose che nel sondaggio poi altri collaboratori vogliono trovare le riprese sono nella nostra business school di Bologna i video perché? perché il cervello come quando guidi la macchina con grande velocità il cervello è più attento la faccio semplice hai più attenzione sulle immagini video piuttosto che sugli annunci e sulle fotografie quindi devi usare come strumento migliore quello una volta che tu hai creato il tuo sito carriera la tua pagina lavora con noi e hai un po' di contenuti carini video piuttosto che delle immagini interessanti le devi sponsorizzare tutto l'anno attraverso i canali a pagamento quindi le Facebook ads le Google ads e il marketing più tradizionale ok? ora queste attività poi vanno misurate dirai Maurizio fare un sito carriere piuttosto che fare dei video a un'attività molto costosa soprattutto se non mi porta nuovi clienti però se misurando ti rendi conto che porta nuovi collaboratori e questi nuovi collaboratori generalmente dopo che sono stati avviati portano in carichi è un buon investimento io molte volte faccio questa domanda quanto seresti disposto a investire prima di trovare il collaboratore ideale non dopo che l'hai trovato prima e molte persone mi dicono 300 3.000 10.000 euro e poi io dico ma quanto vale un venditore per te? la media nazionale è 65.000 euro il primo anno e che significa che lui tiene il 30% il 70% lo tieni tu e tu saresti disposto a investire 300 euro per trovarlo non tornano i conti è il migliore investimento che puoi fare sulle persone per concludere quando tu promuovi quindi fai outflow fai un flusso uscente di persone di messaggio ti ritorna un flusso entrante ti ritornano tanti cv se prima ti arrivavano 4 candidature all'anno facendo queste attività probabilmente te ne arrivano 40 al giorno ora qual è la soluzione migliore per essere veloci? usare delle analisi attitudinali chi in sala utilizza già delle analisi attitudinali? benissimo 1 su 150 siamo nel 2023 signori devi avere uno strumento scientifico oggettivo testato che ti permetta di sapere prima quali sono le caratteristiche della persona che andrai a inserire questo è un esempio una delle nostre analisi attitudinali ce ne sono tantissime nel mercato non è detto che devi comprare quelle dell'OSM che sono le migliori comprane altre l'importante è che nel 2023 non ti affidi solamente al tuo naso che qualche volta ci prendi e qualche volta sbagli un'analisi attitudinale ti permette in maniera scientifica di sapere qual è il suo livello di organizzazione quali sono le sue attitudini qual è la sua motivazione quali sono i suoi principi sa cos'è la meritocrazia oppure al tatuaggio del partito sa ha un'abilità commerciale perché vedete in base anche al ruolo in cui lo devo inserire devo sapere in anticipo se lui è il chi giusto per quel ruolo quindi nel 2023 produci un grande flusso in entrata di candidature utilizzi un sistema scientifico per selezionare al meglio le persone dopodiché infine credi nel potenziale degli altri questa è la grande domanda perché anche un punto di partenza un po' sfavorevole come potrebbe essere questa persona in realtà se tu ci credi davvero potrebbe essere un grande talento credi nel tuo potenziale se credi nel tuo potenziale puoi credere nel potenziale di un altro essere umano quindi il mio ultimo messaggio è attrai tante persone ma dopo di che credi nel potenziale degli altri ci sono tanti ragazzi di grande potenziale disponibili nella nostra società che possono aiutarti a costruire una grande agenzia non solo per il business ma anche per tornare a farti un po' sognare a farti guardare al futuro grazie mille 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 grazie mille